Ciao a tutti, eccoci qua nel nuovo gameplay di The Sims di Pokémon Rubin Siamo sempre qua con... PikaPaka92 Buongiorno a tutti, buonasera a tutti a seconda di a che ora lo stiate guardando Allora, ho catturato un altro Pokémon se non ricordo quale però ho catturato forse il Pochegna Pochegna Adesso finiamo di allenarli Allora abbiamo un Zizzago che deve superare il Warpaw Ok In modo che si evolva Perchè dopo ci sono gli allenatori Quindi E' importante che sia un certo livello Esatto Ma visto che lui si evolve in 3 evoluzioni velocemente anche Si esatto, Brampole è molto rapido Ce lo sbologniamo via come diciamo noi Esatto No, non era piacere, voleva salire però vabbè lo stesso Vai avanti tu un attimo Spero lo calcio E quindi Alleniamo un po' Questi Bellissimi Ok Ok Ecco Siamo anche più alto di livello Proviamo per combattere lui Ok Perfetto Tra un livello si evolve Tra un livello si evolve Quindi facciamo l'evoluzione Proviamo Sì Diciamo che essendo in superiorità di livello Diciamo a... Oh cacchio Un po' rosso Un po' rosso Io lo colerei Ok Proviamo questo bel termiciato Che adesso faremo colore Ok 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 Mi ha saltato un po' di livello Un po' di combattimento Esatto Ci siamo sempre più vicini Ok È Un bel momento l'evoluzione Esatto Emozionante Esatto Dai 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 Forse ci siamo Sì Uh ci siamo Evviva si evolve Sì Scusate Un attimo Ok Forse dietro C'è qua anche il cane Evviva Forse si tratta Tranquillizzato È diventato un casco Esatto Io ammetto le mie ignoranze Non mi ricordo in base a che cosa diventava un silicone o un casco Eh boh Certo Datelo su internet Esatto Andrò anche io poi a cercarlo Perché non mi ricordo Esatto Ok Quindi Abbiamo fatto evolvere il simpatico Bram Questi mi sembrano a un buon livello Uh ci ha preso un oggetto Sì Esatto Super pozione ragazzi Che siamo agli inizi Manco le vendono Esatto Vorrei far notare L'utilità Quello zizzo Quindi Grazie